Ancora esche avvelenate nell'area sottoposta a sequestro dei carabini e riscenario della macabra Mattanza che ha visto soccombere per avvelenamento più di 30 cani randaggi a Sciacca incontrata a Mucciara. Anche l'ente protezione animali ha inviato volontari delle sezioni di Catania, Adrano e Agrigento. Una situazione dei luoghi disastrosa messi in evidenza dagli animalisti che hanno rilevato rifiuti materiali di risulta ed Eternit. Ed ancora cani in pericolo che non sono stati potuti essere messi in sicurezza. Un'area che va urgentemente bonificata hanno ancora sottolineato i volontari dell'EMPA. Purtroppo non c'è stata data alcuna spiegazione a riguardo. L'amministrazione comunale spiega a Cataldo Parisio, presidente dell'EMPA di Catania, è assente e a parte qualche frase di circostanza continua a fare poco o nulla per tutelare l'incolumità dei suoi cittadini a quattro zampe contravvenendo così agli obblighi imposti alla legge. Secondo la normativa, infatti, il sindaco non solo è responsabile per i rinandaggi e gli altri animali vaganti sul territorio. Responsabilità che naturalmente comprende la tutela della loro incolumità, ma in caso di ritrovamento di esche avvelenate deve attivare la procedura provvista dalla normativa, che prevede appunto la bonifica dell'aria interessata. Tuttavia sembra proprio che a Sciacca ciò non sia accaduto e che nulla venga fatto per porre rimedio a tale inadempienza. Una inadempienza ancora più grave poiché purtroppo nella città siciliana gli avvelenamenti rappresentano una triste e consolidata realtà contro cui evidentemente non si è agito come si sarebbe dovuto, ha concluso il presidente dell'EMPA. Sull'episodio criminale, Gianello Musumeci Sabat ha dichiarato che il governo regionale si costituirà parte civile in un eventuale processo qualora vengono individuati i responsabili. E questa settimana dovrebbe esserci un incontro tra il governatore della Sicilia e i rappresentanti delle associazioni animaliste. È un atto gravissimo di crudeltà gratuita in displegio del mondo animale. Non è uccidendoli che si risolve il problema dei randaggi. È necessario istituire subito una commissione parlamentare che studi il fenomeno del randaggismo, ha affermato Gianfranco Miccichè, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che nei giorni scorsi ha nominato un consulente competente in materia di randaggismo. Francesca Valenti, sindaco di Sciacca, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro gli autori di insulti e minacce pubblicate sulla sua pagina Facebook dopo la morte dei cani. Sembra anche imminente una manifestazione di associazioni animaliste che si daranno appuntamento a Sciacca nei prossimi giorni.